Lei ha già detto come selezionare i candidati per le liste agli europei? Stiamo elaborando le regole ma non sarà niente di particolare, l'unica cosa sicura è che non saranno star ma saranno cittadini comuni come lo ero io e come lo sono io. Ieri Pizzarotti ha chiesto di affiancare al voto del web un voto dei territori, lei cosa ne pensa di questa possibilità? Non l'ho letta quindi non so a cosa si riferisce. Sarà il web a decidere? Come sempre io sono arrivato in Parlamento grazie alle parlamentarie e mentre negli altri partiti per stare al secondo posto pagavano 30.000 euro, da me sono bastati i voti di cittadini liberi e hanno eletto cittadini liberi.